I dati elaborati dall'osservatorio territoriale droga e tossicodipendenze indicano che in provincia il 43% delle denunce è legato alla cannabis. Per molti giovani il primo passo nel mondo della droga, come ci ha spiegato Marisa Pozzoni, presidente dell'associazione Amici di San Patrignano, gruppo di volontari che è triplicato nell'arco di un solo anno. I partiti come gruppo di volontariato di 15 persone, famiglie che hanno i loro figli già nella comunità di San Patrignano, attualmente sono presenti nella nostra associazione, dopo l'aiuto che noi abbiamo portato ai loro figli, 60 componenti. E abbiamo già aiutato, si sono rivolti a noi e sono presenti in comunità in questo momento 20 ragazzi valtellinesi, più 5 ragazzi che stiamo preparando in questo periodo per poi portarli all'ingresso in comunità. Qual è il comune denominatore fra tutti i ragazzi che avete avvicinato? Beh, sicuramente che accomuna tutti loro è un grandissimo disagio che è la droga. Quindi la partenza, quello che loro si raccontano a me quando io ottengo i loro colloqui, è una partenza molto giovane di contatto con le sostanze. Generalmente partono fumando cannabinoidi per poi passare a droghe diciamo più pesanti, ecco, cocaina, eroina, pastiglie. Perché sempre più questi giovani non fanno un uso solo di un tipo di sostanza, ma assumono spesso tutti i tipi di sostanza, anche contemporaneamente, magari durante le loro serate o mattinate che fanno con la droga. In comunità a Rimini cosa trovano? Trovano la salvezza, una scuola per la vita. Chiamare comunità un luogo come San Patrignano sicuramente è il nome comunità, però è riduttivo, molto riduttivo. Quello che trovano è veramente una scuola per la vita perché trovano la coerenza, senza sostanze, quindi senza nemmeno sostanze sostitutive o farmaci. loro entrano lucidi, diciamo, di mente, quindi iniziano questo lavoro di ricostruzione guardandosi dentro, quali sono le loro reali problematiche. La comunità è una comunità gratuita? Completamente gratuita, ecco, questo è una... vorrei veramente chiarire una volta per tutte perché troppo spesso ancora si rivolgono a noi le famiglie e ci chiedono quanto costa. Quanto costa permanere in questa comunità? Ribadisco è completamente gratuita.